we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi tantissime novità anche oggi per il futuro di fortnite forti della pace di ieri la 12.40 abbiamo potuto scoprire un sacco di novità nei file di gioco e alcuni li vediamo già in game ad esempio lo squalo ne approfondiremo oggi ma anche roba un pochettino più nascosta tipo la stanza di midas insomma ragazzi un bel video bello ricco volevo subito però ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere la notifica del mio video news ma insomma ragazzi insomma vi ho fatto un pochettino di anticipazioni e voglio subito partire mi sogno scurda dalla domanda l'ho preparata non l'ho preparata allora ve la faccio così proprio a voce senza overlay come vi sembra la pace che abbiamo scaricato ieri 1.12 giga da pc tengo a precisare vi piace non vi piace secondo me è da apprezzare perché tanta roba non l'abbiamo ancora vista tipo le doppie pistole silenziate e altre piccolezze secondo me ci sta vi ricordo che la season è stata allungata ma quindi ciancio alle bande e vanno alle ciance andiamo subito ragazzi a vedere il cambiamento uno dei due cambiamenti più evidenti mi riferisco ai cinque oggetti che sono intorno all'agenzia e che spuntano appunto dal lago che cosa è successo hanno cominciato a brillare si ragazzi brillano proprio anzi voglio farvi vedere un video in modo che riusciamo a farci un pochettino le idee più chiare e guardate un po' ragazzi qua siamo come vedete sotto acqua sotto l'acqua ed ecco qua fermo un secondo la clip guardate il fascio di luce viola che da sotto va verso l'alto ovviamente il fascio di luce viola non è un caso lo sappiamo che su fortnite quando si vedono cose del genere o meglio quando si associa il colore viola di solito c'è sempre qualcosa di malvagio vedi ad esempio il cubo che diciamo non è che ha fatto proprio benissimo alla mappa quindi sono molto propenso a pensare che si faranno parte tutti e cinque della doomsday weapon quindi dell'arma che mida sta creando per il giorno del giudizio doomsday vuol dire proprio giorno del giudizio ne sappiamo ancora molto poco di questo grande evento di questa season e dico grande perché dato che ce l'hanno posticipata sono sicuro che non ci deluderanno staremo a vedere ovviamente nel futuro che cosa succederà e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi proprio alcune fotografie della stanza di mida sì perché fra qualche ora alle 16 se non ricordo male dato che abbiamo l'ora legale inizieranno le 10 sfide che ci accompagneranno per questa settimana numero 9 e sono le sfide di mida l'ultimo agente che ci manca dopo aver completato settimana scorsa sky abbiamo un'immagine molto curiosa questo è il grammofono fate ben presente e questa immagine perché vi servirà per una sfida che ci faranno fare della della gente bananita ma la vedremo più avanti non arriverà probabilmente domani come vedete di fianco al grammofono c'è sempre la fotografia dell'engineer quindi la potenziale moglie o compagna di mida ma abbiamo anche delle altre immagini tipo questa bellissima inquadratura dalla lontana e che ci fa capire quanto è enorme la stanza di mida se guardiamo in fondo a destra c'è una skin che già tutti conosciamo il falco solare sotto forma di statua d'oro ma se guardiamo invece proprio sotto di me ce ne sono altre che cosa vuol dire sono skin o sono per caso player che mida stesso ha trasformato in oro secondo me secondo me considerando che quando mida tocca qualcosa diventa oro è un po strana la cosa proseguendo abbiamo un'altra immagine meravigliosa come vedete il lama d'oro come trofeo sul muro ma quello che ci interessa di più ovviamente nella bacheca questa serie di elmi li abbiamo già visti già una settimana fa ce ne sono tantissimi vediamo appunto l'alpino vediamo il durburger vediamo il tomato vediamo omega la vespa di rame quello che ci colpisce e che è quello che vedremo anche nel trailer di mida è che l'elmo del cavaliere nero non è di color oro e anche nel trailer non diventa d'oro secondo me potrebbe centrare qualche cosa ora io non dico che torni il cavaliere nero togliete vanno dalla testa però molto interessante questo dettaglio e per concludere un'altra statua proprio della pelle gold la banana d'oro quella che stiamo insomma cercando tutti di prendere che vedete in questo momento stiamo sbloccando piano piano ragazzi in live sempre ovviamente su twitch ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi che è il secondo grandissimo aggiornamento che la mappa ha ricevuto mi sto riferendo ovviamente allo squalo e qua ragazzi ce ne sarebbe di brutto da parlare perché lo squalo è stato completamente stravolto trasformato in un enorme prigione su un'isola un po alla alcatra style se dovessimo fare un'associazione è veramente incredibile quanto siano state fatte bene e quanti dettagli siano perfetti la vera domanda che tutti ci poniamo ovviamente è ok quindi perché c'è una prigione sullo squalo non ci sono ancora delle informazioni ufficiali a riguardo sapete che epic games tende sempre a fare le cose e poi a dirle dopo anche per quanto riguarda il mondo dei leakers non ci sono delle teorie solide che vale la pena dirvi vi dico la mia opinione ragazzi beh secondo me innanzitutto guardiamo queste immagini la prigione è enorme quindi occuperà tantissime persone se guardiamo quest'immagine sullo standard si nota chiaramente il simbolo che già abbiamo visto e che fa parte di mida quindi fa parte che fa parte di oro quindi fa parte di mida perché probabilmente sono la stessa identica persona per quanto riguarda ovviamente la storyline poi ovviamente sappiamo che sono due skin diverse ma c'è una cosa che ci colpisce fortemente forse non lo sapete vi faccio vedere questo video mentre lo commentiamo se noi dalla prigione ci spostiamo sul pontile beh ragazzi guardate che roba addirittura un edificio molto più piccolo ma completamente dedicato ad un singolo prigioniero voglio di farvi vedere questo spezzone perché è veramente un qualcosa che ci deve far pensare che sicuramente farà parte della storyline e perché fare addirittura un edificio separato per un'unica persona chi ci andrà lì dentro mi dà oro o qualcun altro è la domanda interessante non sappiamo assolutamente cosa rispondere però staremo a vedere c'è da dire che dai almeno happy games non ci lascia assolutamente annoiare sebbene abbiano come ho già detto esteso la season ma andiamo avanti prima di salutarci a parlare dell'ultimo argomento di oggi ragazzi se parte eccolo qua mi riferisco proprio ad un'immagine che avevamo già visto addirittura credo due patch fa ovvero sia la variante scura di oro ed è una skin presente è meglio è una variante presente nei file di gioco ma ancora non resa pubblicamente secondo me però dovremo aspettarcela molto presto perché ve lo dico perché ieri mattina nella patch sono stati trovati due nuovi stili sia per il piccone il glided chapter chiamato così in inglese non chiedetemi come si chiama in italiano che non me lo ricordo sia per il deltaplano lo skellon quindi entrambi sono perfetti appunto da abbinare alla variante scura di oro che ovviamente non potrà assolutamente essere messa come una skin extra ma sarà sicuramente uno stile per chi ha acquistato la skin insomma ragazzi non dimenticate una cosa importante fra poco troverete sul canale tanti video per completare al meglio le sfide di questa settimana numero 9 di mida non sono assolutamente difficili 400.000 punti da portarci a casa indicativamente tanta tanta roba per molti di voi saranno almeno 7 8 livelli tanta tanta roba io vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi canali ea me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao